Tutto pronto dallo stadio Mario Rigamonti di Brescia per la telecronaca di Brescia-Sampdoria, tra pochissimo la quinta amichevole stagionale che conclude il ritiro dei Blucerchiati, diretta esclusiva su Primo Canale, primocanale.it, le pagine Facebook di Primo Canale Ufficiale, Primo Canale Sport, replica questa sera in televisione alle 21.00. Vi aspetto alle ore 18 in diretta, solo su Primo Canale, Brescia-Sampdoria. Grazie.